Adesso ci divertiamo un pochino perché parliamo di politica e che politica perché davvero si sta verificando di tutto e di più in provincia di Taranto e in particolare nel capoluogo. Capiremo meglio tra poco, intanto saluto e ringrazio un ulteriore ospite che ci ha raggiunto nei nostri studi, Luigi Abate, consigliere comunale Taranto. Buongiorno, grazie. Benvenuto Luigi, nonché collega giornalista. Quindi con lui parleremo di quello che lui stesso ha fatto in queste ultime ore, dando un'ulteriore carica al suo movimento che si chiama Taranto Senza Ilva, ma Luigi, ti do del tu, potremmo commentare anche le vicende politiche nella tua veste di giornalista perché non hai mai mollato entrambe le cose. Intanto vi propongo le immagini che si riferiscono proprio alla giornata di sabato, quando Luigi Abate ha tenuto una conferenza stampa oltretutto legata, per meglio dire, mi correggo, ad un'assemblea organizzativa proprio del suo movimento. Un movimento che è nato un paio di anni fa, c'erano una cinquantina di persone raccontabili. All'epoca, nel dicembre 2021, al Molo Sant'Eligio, allora quando presentai la mia candidatura a sindaco e partì questo progetto. Poi sono diventate oltre 4.000. Sono diventate 4.200 e si cresce. E proprio in questo percorso Luigi Abate ha detto agli amici, ai sostenitori, attenzione, abbiamo due obiettivi principali. Intanto mantenere, per quanto è possibile, un affetto nei confronti della politica che ormai sembra smarrito. E poi cercare anche di dare un volto nuovo alla città e al Consiglio Comunale, dove ci sono persone che da oltre 20 anni sono sempre presenti in qualche modo, pur cambiando sempre casacca e questo lo dice lunga anche sul momento attuale. Luigi, ormai la gente ha poca fiducia nei partiti tradizionali, quelli che restano, di centro-destra e di centro-sinistra. E tu da civico, con questa coalizione che vuoi costruire col tuo collega Massimo Battista in Consiglio Comunale, vuoi far re-innamorare la gente della politica, missione difficile però. Io intendo la politica come servizio, intendo la politica come partecipazione. Parliamo dell'ambito locale, dell'ambito comunale, in cui ovviamente non c'è quella forte ideologizzazione che ci può essere, che c'è a livello nazionale, non stiamo parlando di finanziare o meno la guerra a favore dell'Ucraina, non stiamo parlando di altri temi ideologici di ampio respiro, stiamo parlando di creare un programma, un progetto preciso che valorizzi la nostra città andando a sfruttare quelle risorse naturali, quell'immenso patrimonio storico, culturale. Non si può fare un lavoro a Taranto che scavando escono, vengono fuori le meraviglie, l'ultimo caso della scuola Cabrini in Via Dante. Quindi voglio dire, ho lanciato questo appello alla città, alle forze sane, trasversalmente ai partiti, trasversalmente al centro-destra e al centro-sinistra, mettere insieme le migliori intelligenze, le migliori capacità, le migliori professionalità, la gente di buona volontà, la persona che è stanca di subire. E ho detto una cosa, io non temo, credetemi, i partiti, non temo il centro-destra, non temo il centro-sinistra, temo un fatto molto grave, la rassegnazione della gente. E in questo senso io e il collega e amico Massimo Battista vogliamo fare una sorta di, passatemi l'espressione tra virgolette, shock terapia, cioè cercare di scuotere questo cittadino che è distrutto, che non sa più a quale santo votarsi. Ecco, vediamo queste immagini di sabato mattina, regia, mi colpì, l'ho detto anche nel servizio, sono stato sincero nella cronaca, questa partecipazione così ampia, addirittura peoviginava, però la gente era all'esterno della tua sede Luigi ad ascoltare, perché? Perché Luigi con i suoi voti, io ho detto rocamboleschi in alcuni casi, da vecchio giornalista d'assalto, comunque piaccia o non piaccia, però vuole mettere in campo questo goal, questo risultato di far avvicinare la gente alla politica, vedete c'era tanta gente, oltretutto trasversale, ragazzi, anziani, c'era un po' di tutto e ascoltavano attenti. Hai citato una vecchia piaga dell'amministrazione comunale di Taranto, consiglieri le cambiano sempre casacca, ce ne sono diversi esempi, tra poco parleremo anche specificamente di centro-sinistra e centro-destra, voglio chiederti però che aspettativa hai rispetto ai prossimi appuntamenti elettorali, perché dico questo, poi lo vedremo nel dettaglio, il centro-destra si sta facendo trovare più pronto, ci sono stati i congressi di Forza Italia, partecipati con anche altri rappresentanti della coalizione, il centro-sinistra va sgretolandosi, questo sembra soprattutto con il PD, e quindi ci potrebbe anche essere spazio di una proposta di una coalizione civica trasversale alle prossime amministrative. Ma io parto da un presupposto, il fatto che ci fosse sabato tanta gente, anche con una giornata uggiosa, con un clima difficile, deriva anche dal mio modo di fare politica. Io amo il contatto diretto con le persone, non ho segretarie, segretari, forse un giorno li avrò, sarà necessario, ma per ora gestisco tutto in prima persona. Ho reso pubblico il mio numero, 339-240-4-240, è una sorta di 118 per quanto riguarda le problematiche. Sicuramente proprio questo crea un rapporto diretto, il cittadino ha bisogno di risposte, ha bisogno di un contatto. Io non ho la bacchetta magica, io dico, signori, questo è il problema, lo affrontiamo, lo affrontiamo mediaticamente per amplificarlo, lo affrontiamo nelle sedi istituzionali, come consigliere comunale, in sede di commissioni, in sede di consiglio comunale. Il discorso che facevi, io faccio un'osservazione, centrodestra e centrosinistra, ovviamente parliamo di due coalizioni che hanno alle spalle un background, hanno alle spalle una loro struttura nazionale, anche a livello di finanziamenti, perché parliamo di grossi colossi della politica. Se devo così spostare il discorso su Taranto, io dico il contrario, io dico che il centrosinistra è più pronto, perché ha già pronto il suo candidato, almeno se si votasse a giugno, cosa che non credo accada, che è Mario Turco, e il centrodestra invece in effetti ha difficoltà proprio nell'individuazione del candidato e nella gestione. Io non sono per nessuno dei due schieramenti, anche perché poi parlare di centrodestra e centrosinistra mi viene quasi da sorridere, perché come dicevi, sottolineavi tu, qui ci sono persone che, come ho evidenziato io sabato, ci sono persone che hanno fatto… Storicamente della destra, oggi ritrovatesi alla corte del PD di Melucci, no ex ormai, no, ma è un fatto storico, noi abbiamo dei consiglieri comunali, massimo rispetto per loro, penso a Lucio Lonocce, penso a Goffredo Lomuzio, penso a Michele De Martini, lo stesso assessore Ciragi che viene dalla esperienza. Quindi io, ripeto, nulla di personale, per carità, hanno fatto certamente una inversione a U, hanno certamente fatto un cambio molto forte, che però, a mio avviso, scusatemi, incide anche, non sulla credibilità della persona, persone per bene, per l'amor di Dio, però incide molto, inficcia, la credibilità politica, perché se io sono stato una vita col centrodestra e quando poi diventa anche imbarazzante per Melucci, perché quando il sindaco Melucci tuona contro il dissesto, si trova personaggi che, per carità, nulla di nessuna responsabilità penale, però c'è una responsabilità politica perché hanno fatto parte di quell'amministrazione del dissesto.